Gli aretini non rispettano i posti auto riservati ai disabili. Ce lo conferma il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, che ci riceve nel suo ufficio e ci fornisce i numeri delle violazioni dall'inizio dell'anno ad oggi. Le multe elevate sono quasi mille, 126 per la violazione dell'articolo 188 del Codice della Strada, cioè per la sosta nei posti invalidi destinati ad un particolare soggetto. 820 invece le multe per la violazione dell'articolo 158, la sosta cioè nei posti generici riservati ai disabili. Per questo tipo di violazione le nuove norme del Codice della Strada appena introdotte hanno inasprito non poco le sanzioni. Sì, c'è stata una conversione in legge del decreto e c'è stato in alcuni casi un aumento abbastanza consistente delle sanzioni al Codice della Strada. Basta pensare che non rispetto dei parcheggi per i disabili è passato da 168 euro a 672, con la decurtazione di 6 punti anziché 2. Noi si trova, soprattutto la difficoltà, si trova anche all'ingresso e all'uscita delle scuole, dove ci si trovano a dover disciplinare il traffico dei plessi scolastici in maniera, non dico razionale, che uso un termine non corretto, ma fino a quando, tanti anni fa, i ragazzi andavano a scuola a piedi, ora non è più possibile mandarli a scuola a piedi per mille motivi, però c'è proprio un assalto alla scuola Piobori, alla scuola Tricca, alla scuola Montibianco, dei genitori che lasciano i veicoli come viene e viene, anche se c'è stato un progetto consentendo la sosta gratuita nei parcheggi blu, negli orari di ingresso e di uscita da scuola e sui posti disabili, io già mi immagino alle prime sanzioni quello che si potrà scatenare questo aumento così importante di soldi, quindi si passa, ripeto, da 168 a 672, però ritengo che sia una norma di comportamento del codice della strada che deve essere rispettata. Gli aretini sono anche particolarmente inclini ad usare il cellulare alla guida a causa più frequente, secondo gli esperti, di incidenti dovuti alle distrazioni, come gli investimenti di pedoni che si sono verificati nelle ultime settimane. Per questo tipo di violazione sono stati multati 420 aretini, 408 invece coloro che non indossavano le cinture di sicurezza. Non usate il telefono, non mandate messaggi, non usate smartphone, non usate la maggior prudenza possibile, perché una grande percentuale di incidenti stradali avvengono per distrazione, non tanto per un eccesso di velocità. Gli eccessi di velocità sono influenti, su alcune strade come Ristradella posso confermare che è dovuto alla velocità, però il resto, gli investimenti dei pedoni che si sono verificati o la poca attenzione sul fermarsi sugli attraversamenti pedonali è dovuto alla distrazione. Lo smartphone, il telefono è la cosa che influisce, a mia opinione, influisce più sulla distrazione. Parlare con altri mentre siamo alla guida distrae. Fanno un po' di tutto, le sanzioni all'articolo 173 non sono diminuite, le scusanti che si verificano, si possono verificare, ho risposto un minuto, ho una chiamata d'urgenza, non sono giustificabili quando avviene un investimento, un po' di donne. Può capitare a tutti, un errore di distrazione può capitare, però una maggiore attenzione sull'uso del veicolo sì. Grazie. Grazie.